Dopo la conferma di Roberto Gemmi arriva un'altra novità in casa Rezzo, il nuovo responsabile dell'Agrascouting è Vincenzo Bevo, 41enne, nato a Napoli, oltre 200 presenze in Serie C come centrocampista. Bevo sarà il più stretto collaboratore di Roberto Gemmi nell'area tecnica. Ma vedremo più partite possibili, più giocatori possibili cercando di fare una scrematura e aspettare anche queste nuove regole sperando che si decideranno quanto prima così per far sì che anche noi sapremo un po' vari regolamenti sugli under, sugli over e tutto quanto. Indubbiamente bisogna vedere l'età degli under quale sarà e regolarsi di conseguenza, purtroppo ci tocca aspettare e in base a quello poi ci adegueremo e lavoreremo. Faccio il responsabile sud Italia e estero, quando ho smesso poi ho iniziato la nocerina in B, facendo sempre responsabile, lavoravo in sintonia con il direttore. Gli ultimi due anni sono stato a Verona, con il direttore, con il Sogliano. Aspettiamo un attimino, vediamo anche quello che si deciderà più avanti. Per adesso ci tocca lavorare, per adesso lavoro e guardiamo il da farsi.